La Fondazione Ipsa è nata nel 2012, quando praticamente io sono arrivata in Ipsa, quindi è nata un po' con il mio arrivo. Quindi cominciando a lavorare per questa fondazione, come prima attività, abbiamo pensato che la cosa più importante fosse proprio quella di aiutare dei studenti o studenti di PhD, appena laureati, diciamo giovani, con l'intenzione di diventare ricercatori, quindi di fare ricerca scientifica. Vedere poi la gioia dei ragazzi quando ricevono la notizia di aver vinto questa borsa di studio è un qualcosa che ci fa sentire tutti molto meglio. Si chiamano fellowship perché questo termine è stato coniato negli Stati Uniti. Il significato della parola dà proprio il senso di quello che noi facciamo. Le fellowship sono delle scialuppe di salvataggio, perché il fellow è la persona che lavora in laboratorio. Noi cerchiamo di aiutarli soprattutto in alcune aree scientifiche che sono particolarmente poco finanziate. Sicuramente il consiglio che darei è quello di investire e quindi in qualche maniera sostenere ognuno per le sue tasche, per le sue modalità, per le sue possibilità, sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica può cambiare il mondo. La ricerca scientifica è costa di soldi. Di salsiuso, c'è stato un pozzo di qualità? La ricerca scientifica è un pozzo di qualità di potenzione. Science also provided me with the environment where I can fully embrace my creativity. In my opinion, research is a hope and also a promise for the better future for all of us. Winning the prestigious Ixa Fellowship reward provided me with the financial stability at the very sensitive stage of yearly career. Thanks a lot to the Ixa Foundation Fellowship. It gave me the first note from the public that is extremely important for a new guy in the field. Not only the financial support for the research work in the laboratory, but also establish the confidence for myself and advantages for myself when I interact with the people and even applying new positions in my career. We do scientific research because we want to see people suffer less. We do scientific research because we want to see people healthier. And we do scientific research because we want to see people heal. So when you look at it from this point of view, research really means caring for others because all the work we do is eventually about the patients. The research is an adventure. It's like cutting scotch a beautiful woman. Therefore we have to continue to cut it down. The research is an adventure. It's like cutting a beautiful woman.